La prima cosa che ho pensato è stata quello di essere onorato di ricevere un premio. Onorato, e questa è la prima parola con cui Saverio Tasca racconta la sua emozione per aver vinto il premio Cultura Città di Bassano. Incredulo, emozionato, il pensiero va al padre, famoso artista della ceramica. Poco a poco si è consolidato la sensazione che tutto questo fosse vero, perché questo premio che era stato di mio papà un po' di anni fa, adesso fosse arrivato a me. È arrivato a lui, un protagonista internazionale del vibrafono, un percussionista di eccezionale talento. Il premio Cultura lo raggiunge mentre si trova all'estero. Non potrà ritirarlo di persona, ma con questo video invia il suo commosso ringraziamento e conferma, come se ce ne fosse bisogno, quel che di lui è scritto nella motivazione del riconoscimento. In qualunque città del mondo si trovi, su qualsiasi palcoscenico si esibisca, Saverio Tasca porta sempre Bassano del grappa nel cuore. Senza comunità, senza gioia per le cose, per l'arte, per il lavoro, per la produttività, per il piacere anche di parlare e di dire qualcosa di noi stessi, senza questo ogni lavoro, ogni arte forse è intima. Vi ringrazio e ripeto la mia felicità di ricevere questo premio.